per quanto riguarda la locomotiva Italia. Sì, grazie, è il primo incontro che faccio nell'anno nuovo e sono contento di aver visitato un modello, perché il Trentino è un modello di efficienza, di velocità, di rapidità, l'A22, insomma, fra tanti dossier problematici che ho sulla scrivania, il Trentino rappresenta anche dal punto di vista della sostenibilità e dell'innovazione, che non solo sono due sostantivi, ma devono essere calati nella pratica, quindi è un modello da tanti punti di vista, perché è vero che c'è una grande galleria in lavorazione, però lì c'è anche una discarica che da decenni cumulava tonnellate di rifiuti, che verrà ridonata come area e come salubrità ai cittadini. Questo 4 gennaio sono col pensiero e col cuore, insieme a migliaia di altri fedeli, a rendere omaggio a Papa Benedetto, però sono in presenza a fare il mio mestiere, quello per cui sono pagato. Stiamo chiedendo agli uffici di accelerare, perché questi 7 miliardi diventino lavoro e diventino opere, non solo a Trento e a Bolzano, ma penso all'Emilia, alla Campogagliano-Sassuolo, penso alla Cispadana, penso a Verona, penso a Mantua, quindi è fondamentale che questi 7 miliardi diventino cantieri, gru e operai al lavoro. Ci sono altri dossier, c'era prima il sindaco, c'era la circonvalazione, quindi l'obiettivo è che entro i mesi estivi di quest'anno si parta. Stamattina parlavo con l'amministratrice delegata di RFI per la Rovereto Riva, quindi per il via alla progettazione, l'interramento per quello che riguarda Rovereto, ieri ho accennato con l'amministratore delegato di Anas, quindi diciamo che il 2023 dal mio punto di vista deve essere l'anno della liberazione di centinaia di cantieri fermi da troppo tempo, perché ogni cantiere aperto significa sicurezza, efficienza, modernità, innovazione e lavoro. E anche in questi giorni di mezzo riposo in Trentino, le persone che mi fermano hanno come priorità le bollette, le tasse, i mutui e il lavoro. E quindi questa mattina ho toccato con mano centinaia di caschi bianchi e gialli all'opera e conto che la buona collaborazione istituzionale col valore aggiunto del modello Trentino è anche la completa collaborazione fra livelli istituzionali, comuni, provincia, regione, privati, quindi anche per questo è più facile per il Ministro spingere. Stamattina stavo messaggiando, rompendo le scatole anche al 4 gennaio, i tecnici del Ministero, i tecnici anche di Chigi, perché di noi i nomi per la Commissione, per la consultazione pubblica, per correre, per procedere. Entro i prossimi tre mesi il Parlamento dovrà approvare il nuovo Codice degli Appalti che dovrà essere quanto di più veloce, snello, moderno, efficiente, innovativo, tutelando trasparenza e ovviamente legalità, che sono le priorità, però mettendo al centro la necessità di correre, di scavare, di creare, di innovare, di velocizzare. C'è il tema Codice della Strada e parto dalla 22, che è quella a più basso tasso di incidentalità, ahimè, non tutte le strade e le autostrade italiane hanno la stessa virtuosità e quindi dopo il Codice degli Appalti metteremo in mano anche al nuovo Codice della Strada, che dopo 30 anni una rivisitazione la merita, con il tema prevenzione, per quello abbiamo coinvolto il Ministro della Scuola, perché l'educazione stradale a scuola non sia solo un'ora ogni tanto fra l'italiano e la matematica, e poi il tema ovviamente anche della sanzione, perché se ti metti alla guida drogato, ubriaco, per quello che mi riguarda ne devi pagare le conseguenze non per qualche mese, ma ben più a lungo. Quindi è un bel modo di aprire l'anno. Ringrazio tutti coloro che sono protagonisti di questa corsa all'innovazione, che vede il Trentino, Trento e Bolzano in prima fila. Ci rivedremo se riesco entro gennaio, la prossima volta in provincia di Bolzano, a fare un giro anche in zona Brennero, perché se c'è reciprocità all'interno dell'Unione Europea non è possibile che ci siano limitazioni e restrizioni sul fronte austriaco a danno dei lavoratori, degli imprenditori e degli autotrasportatori italiani, è intollerabile da anni. Quindi avrò un bilaterale col collega Ministro dei Trasporti tedesco entro gennaio, l'ho invitato e l'ospiterò a Roma, però non è possibile che per scelta autonoma di qualcuno si danneggi l'operatività di un intero continente. Detto questo, penso che fra Trento e Bolzano di gru e di escavatori ce ne saranno parecchi all'opera nei prossimi mesi e nei prossimi anni, quindi ci rivedremo a inaugurare presto con Maurizio altri interventi. Se ci sono domande rispondo volentieri. A beneficio del Ministro ci sono, come ha notato Ministro e Signori Presidenti, molti giornalisti in sala, anche di testate non trentine, quindi se volete qualificarvi prima di portare al microfono la vostra domanda e se mi fate un ceno alzando la mano così gestiamo al meglio la situazione. Chi è il primo che parla? C'è Guido De Mozzi. Signor Ministro, si è parlato del ponte di Messina già nel 1868. Lei pensa che io riuscirò a vederlo? Se vuole le faccio vedere le lastre. Assolutamente sì, è una parte di un corridoio che unisce Palermo a Berlino. Questa mattina parlavamo col sindaco di Riva di come unire Monaco al Garda. fa parte di un sistema. Ovviamente serve velocizzare il trasporto ferroviario sia in Sicilia che sulla Salerno di Gio Calabria, però il ponte serve. Il ponte costa di più non farlo che farlo. In termini di sostenibilità ambientale, visto che ovviamente ci sta a cuore l'efficienza, ma anche quello che per l'ambiente facciamo, studi ingegneristici dicono che il ponte toglierebbe 140.000 tonnellate di anidride carbonica emessa nell'aria, senza contare il beneficio anche per le acque, ovviamente in termini di disinquinamento. Sarebbe un risparmio in termini di costi, di tempi e di mancato inquinamento epocale. Io ho già visitato in forma riservata gli uffici che erano della Società Stretto di Messina, che sono la stazione Termini a Roma e che dal mio punto di vista nei primi mesi di quest'anno torneranno a ospitare il personale della Società Stretto di Messina. Peraltro è un progetto che ha già costato centinaia di milioni di euro senza che si sia posato una pietra. E quindi ritengo utile dare seguito a questa spesa di denaro pubblico, partendo entro due anni con la posa della prima pietra per i lavori. Bene. Allora, dopo la Digetto e la RAI, Giovanni Stinco. Sì, eccomi. Vi faccio vedere perché sono nascosto. Buongiorno Ministro. In Veneto e in Trentino si parla da tempo, da tanti anni, del collegamento valdastico. Ecco, la posizione del suo e del Ministero. Io mi propongo come Ministro che ascolta i sindaci e i territori. L'A22 è un esempio di coinvolgimento dei territori, anche per operazioni di mitigazione, di impatto. Siccome sul tema valdastico c'è il dibattito aperto fra Veneto e Trentino, io attendo che siano i territori a darmi una risposta. Non ci sarà mai un'imposizione da parte del Ministero. Questo vale per la tramvia di Verona, piuttosto che per l'alta velocità che attraversa Salerno, la bretella di Vicenza. Io aspetto che siano i territori a portarmi la loro proposta. Poi certo, se la proposta non arriva entro un tempo normale, onori e oneri di decidere. Però non sarò io a imporre un tracciato, uno svincolo, un'uscita piuttosto che un'altra senza il consenso dei territori. So che c'è il dibattito anche a Bolzano, ad esempio all'Aives, sulla Tesina. Quindi attendo che siano i territori a portarmi una soluzione. Diciamo che a differenza di altre realtà italiane, fortunatamente sia a Trento che a Bolzano qualche milione di euro in cassa c'è. E quindi questo è il buono dell'autonomia. Lo dico ad altri amministratori che in altre zone del Paese hanno paura. L'autonomia è positiva, è migliorativa, è efficienza, è taglio degli sprechi, è taglio della burocrazia, è incentivo a guardare avanti e non a guardare indietro. Però è positiva da tutti i punti di vista. Quindi sicuramente Trento e Bolzano l'autonomia la usano bene e quindi giustamente ne godono dei risultati sui territori. C'era infatti una domanda anche sull'autonomia che richiede il Veneto, ma forse ho già risposto così. Volei però continuare sul solco dei lavori pubblici. Due colleghi hanno chiesto la parola, prego. Non sui lavori pubblici, sulla ricandidatura del governatore Fugatti. Se è automatica, se è blindata, se si deciderà a Trento, a Roma e come sono i rapporti con Fratelli d'Italia sulla partita dei governatori. Siamo autonomisti e quindi per Trento decide Trento. Squadra che vince non si cambia. Mi sembra che la squadra che amministra la provincia di Trento in questi poco più di quattro anni i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Quindi conto che ci sia una coalizione compatta, aggiungo, magari allargata. Però, ripeto, squadra che vince non si cambia. Quindi per quello che mi riguarda il buon lavoro di Maurizio sarà, se i Trentini vorranno, un buon lavoro anche per i prossimi cinque anni. Sentiamo un'altra domanda. Tiziano Grottolo del Dolomiti. La domanda è su due opere in particolare di cui si sta discutendo recentemente. Una sarebbe il tunnel sotto il Monte Baldo e l'altra il collegamento ferroviario per Riva-Rovereto e, come si diceva, verso Monaco. Qual è la posizione del governo e se eventualmente c'è la disponibilità per mettere in campo le risorse necessarie? Sulla Rovereto Riva dialogavo questa mattina con l'amministratrice delegata di RFI assodato che i costi benefici dicono che serve e che sarebbe dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista commerciale e ambientale è un'opera assolutamente utile e positiva. Il mio parere è che occorra lavorare per la progettazione e per la quantificazione dei costi visto che ovviamente con l'aumento dell'onere materie prime e elettricità un piano va rivisto, però dal mio punto di vista è assolutamente utile e necessaria. Per quanto riguarda l'altra infrastruttura, ne parlavo con Maurizio Fugatti su questo aspetto che siano i territori a dirmi come, quando e perché sulla Rovereto Riva io penso, visti anche i numeri, visti i milioni di presenze turistiche in Trentino anzi permettetemi di fare i complimenti non solo e non tanto alla politica ma quanto agli imprenditori trentini, agli albergatori, ai ristoratori, agli artigiani a coloro che lavorano sulle piste perché è una stagione da record soprattutto ospitando tanti italiani e quindi vuol dire che gli anni della preoccupazione fortunatamente sono alle spalle e una infrastruttura come, non è solo la Rovereto Riva ripeto, è la Monaco Garda, così come il ponte sullo stretto di Messina non interessa Messina o Reggio Calabria, unisce Palermo a Roma, a Milano, a Berlino sono infrastrutture assolutamente fondamentali dal mio punto di vista. Grazie Ministro, un'altra domanda Buongiorno Signor Ministro, Giardini, il giornale Arena di Verona veloce, tre flash, Filobus Verona c'è stato un incagliamento se può dire qualcosa, opere olimpiche per il 2026 tra cui variante statale 12 di Verona, persneliere il traffico poi le chiedo una domanda, se le va bene che la concessione della Briccia Padova dal 26 passi al Veneto, a Regione e all'Anas Al volo, c'erano alcuni rilievi tecnici sul Filobus io conto che vengano superati entro questo mese e nella prossima riunione del Comitato per la Programmazione Economica ci sia all'ordine del giorno questa infrastruttura che è attesa e progettata da anni e da diverse giunte quindi conto che possa trovare il suo sì all'inizio dell'anno nella prima riunione utile, non so se sarà gennaio-febbraio comunque nella prima riunione utile dossier olimpico, io convocherò nelle prossime ore la riunione dalla cabina di regia a Milano per il mese di gennaio perché ho ereditato purtroppo parecchi ritardi su parecchi interventi, le Olimpiadi sono nel 2026 quindi non è che si possa procrastinare quindi anche lì l'input è di correre, correre, correre entro il mese di gennaio poi verrà aperta una sede della società anche a Milano sede che è già operativa sia a Roma che a Cortina però essendo le Olimpiadi Milano-Cortina mi sembra giusto che ci sia una sede territoriale nel nome dell'autonomia anche in Lombardia per quello che riguarda le concessioni autostradali io ho fatto più di una riunione con Luca, con Zaie con l'assessore De Berti che devo dire è presente, attenta ed efficiente c'è in itinere il percorso per il controllo e la gestione a livello regionale e locale del sistema autostradale che sposo in pieno anche su questo fronte come dicevano Arno e Maurizio abbiamo dato un'accelerata in questi due mesi a un percorso che andava avanti da qualche anno non entro nel merito della singola tratta però penso alla Pedemontana Veneta che è stata ed è ancora la più grande opera pubblica in lavorazione a livello locale quindi come c'è il modello Trentino c'è anche il modello Veneto che è assolutamente virtuoso quindi conto che si possa gestire a livello locale quello che i territori chiederanno Un'occhiata rapida ai colleghi per capire se ci sono altre domande ci avviamo alla conclusione della conferenza vedo un braccio alzato Sartori dell'Adese, a proposito di opere legate ai giochi olimpici invernali 2026 l'impianto di Baselga di Pinè che è un'opera rilevante 60 milioni di euro ci può dire qualcosa? Presidente su questo non ci sono novità se non che come abbiamo più volte detto nelle ultime settimane noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare e stiamo facendo quello che si deve fare nel senso progettuale e nell'aver messo a disposizione le risorse per quest'opera è vero che da parte degli organizzatori definiamo così c'è un'attenzione a voler fare una proposta alla provincia autonoma di Trento al comune di Baselga quando questa proposta la avremo sotto mano io dico nell'ottica della leale collaborazione fra istituzioni avremo in qualche modo l'obbligo di valutarla perché questo è un dovere istituzionale dopodiché noi siamo pronti e crediamo di essere sotto l'aspetto progettuale e tecnico in grado di fare l'opera però come è corretto che sia le proposte che vengono da chi di competenza ovviamente le valutiamo ancora una domanda poi direi chiudiamo piano piano molto velocemente Goyo dell'Adige noi parliamo sempre di autonomia e sempre più si fa l'orizzonte in quest'idea dell'autonomia differenziata ci può dire qualcosa di più su quali possono essere degli sviluppi futuri su questo tipo di impianto che sta profilandosi all'orizzonte? ma innanzitutto per Trento e Bolzano non cambia assolutamente nulla nel senso che nessuno tocca o toglie nulla quindi a scanso di equivoci ci sono tutti gli altri che quando vogliono in maniera modulare possono applicare quanto la Costituzione prevede è curioso che alcune preoccupazioni arrivino da coloro che difendono la Costituzione 364 giorni all'anno e poi quando qualcuno prova ad applicare quanto previsto in Costituzione eccepiscono è un'autonomia migliorativa che dà la possibilità a chi vuole gestire su un territorio un certo servizio spendendo di meno e rendendo servizi migliori poterlo fare poi puoi scegliere di partire da una competenza due competenze cinque competenze o diciotto competenze al lavoro c'è una persona assolutamente seria competente affidabile credibile che penso abbia incontrato più governatori in questi due mesi di quanto alcuni predecessori nell'arco di anni e quindi è in buone mani il 2023 sarà l'anno per ascoltare per stabilire i livelli essenziali di prestazioni perché nessuno venga lasciato indietro e penso che i vantaggi maggiori potranno essere per i cittadini del centro del sud perché gli amministratori del centro del sud non avranno più alibi se non saranno in grado di fornire alcuni servizi perché se la sanità in alcune regioni italiane è messa come messa evidentemente è perché la gestione centrale non ha funzionato e laddove regionale c'erano sempre alibi o non è colpa mia è colpa sua è colpa della sfortuna è colpa di Salvini è colpa di Roma è colpa di Trento è colpa di Bolzano e quindi penso che il 2023 sarà l'anno della modernità dell'efficienza sia sulle opere pubbliche che sulla riforma della giustizia che sulla riforma fiscale che sulla riforma istituzionale come è previsto da Costituzione quindi un'autonomia migliorativa ho sentito Roberto Calderoli ieri che era reduce da un incontro con gli enti locali in Regione Calabria con soddisfazione da parte sua e da parte di tutti quindi io penso che questo governo riuscirà a fare in qualche mese quello che altri hanno provato a fare in qualche anno vedere in piccolo la prima pagina del quotidiano di Confindustria oggi che ricorda come RFI e ANAS abbiano cantieri aperti per 30 miliardi con un'accelerazione nel mese di dicembre o è coincidenza temporale fortuita oppure insomma che l'Italia abbia bisogno di correre noi ce l'abbiamo ben chiaro in testa ministro abbiamo parlato a lungo di autonomia e sa che ci fa molto piacere i colleghi del Veneto mi chiedono forse sono già entrati in un'ottica di autonomia una battuta più autonoma sulla loro richiesta di avere autonomia riusciamo a fargliela siamo in chiusura credo che ci sia ancora un'ultimissima domanda dopo di questa pronti a disposizione allora una battuta sulla richiesta del Veneto di essere più autonomo risponde lei ministro ah no pensavo ci fosse qualcuno c'è anche qualcuno vedevo lui no ma sull'autonomia ripeto si tratta di applicare la costituzione si tratta di dare seguito al voto di alcuni milioni di cittadini italiani perché se 5 milioni di cittadini in Lombardia e Veneto hanno scelto autonomamente liberamente il sì per gestire a livello locale alcune competenze che a livello statale vengono gestite evidentemente spendendo di più mi sembra un giusto riconoscimento in democrazia di questi milioni di cittadini che hanno votato ma anche degli altri milioni che se potessero votare voterebbero lo stesso sì e quindi c'è un percorso in manovra è stato messo un paletto Palazzo Chigi ha il testo del disegno ci sarà ampia discussione con regioni comuni aule parlamentari e poi come per le opere pubbliche è giusto avere un dibattito pubblico è giusto coinvolgere i territori è giusto spiegare i costi i benefici sui costi dell'autonomia non ce ne sono perché nessuno perde un euro semmai ci sarà qualcuno che ne guadagna 5 qualcuno che ne guadagna 10 ma ripeto gestendo meglio servizi oggi gestiti a livello centrale e quindi conto che come promesso avevamo promesso che entro il 2022 avremmo messo il paletto da cui si partiva è stato fatto e nel 2023 si chiuderà l'iter e poi chi sarà pronto io penso che la stragrande maggioranza delle regioni italiane dirà di sì poi qualcuno sceglierà di gestire direttamente tre competenze e qualcuno più competenze però parlando di di Repubblica federale tedesca parlando di modelli federali parlando di efficienza di modernità i paesi federali nel mondo sono quelli che crescono di più viaggiano di più e sprecano di meno e quindi arrivare alla fine di questa legislatura con una Repubblica italiana federale e presidenziale non solo c'è nel programma di governo ma è giusto è giusto i cittadini ci hanno scelto anche per questo su questo vuole aggiungere qualcosa il presidente Fugati il Milan è in vantaggio quindi questa conferenza stampa porta buono la procrastiniamo fino alle 14 alle 14.15 per l'esattezza al fischio finale dopo il rigore non sei interista ma ministro togliamo i fondi promessi alla provincia di Bolsaro beh con Fugati non cado meglio mi sa sono 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 circondato sono circondato minoranza senta allora c'è un'ultima domanda sì l'ultima domanda in realtà è per il presidente Fugati sull'impianto di Baselga era per avere conferma che del fatto che l'ultima parola comunque spetterà al Trentino sulla decisione se spostare o meno le gare di patinaggio velocità spetta al Trentino ma spetta anche agli altri territori cioè nel senso che anche se il Trentino fosse d'accordo e gli altri territori non fossero d'accordo di spostare quelle gare che ne so a Roma e non passa quindi il percorso è molto chiaro quindi è per questo che noi siamo anche molto sereni nel valutare le prospettive che ci vengono poste dagli organizzatori un tema se posso che non è stato toccato ma che abbiamo toccato qui non è stato toccato qui ma che abbiamo toccato con il ministro Salvini riguarda la progettazione che è in corso da parte di RFI sul su rovereto sull'ipotesi di interramento della ferrovia su rovereto e ovviamente stiamo attendendo l'esito del percorso però è chiaro che all'interno del sempre del tunnel del Brennero perché di questo stiamo parlando così come la circonvallazione di Trento anche l'interramento rovereto è all'interno del tunnel del Brennero se la progettazione avrà le positività che ci attendiamo ed avendo già una una condivisione tra il consiglio comunale che voi sapete il consiglio comunale rovereto all'unanimità ha votato per questo progetto e ovviamente la provincia che sostiene questo progetto è chiaro che sarà facile perché è così se c'è condivisione di territori sarà diciamo più facile riuscire ad ottenere le risorse da parte di RFI di questo abbiamo ovviamente aggiornato il ministro su questo punto perché per il tunnel del Brennero in generale per la città di rovereto si tratterebbe di un'opera molto molto importante vedo che le domande noi fra le grandi fondamentali opere ovviamente non possiamo dimenticare la tangenziale di Pinzolo che ovviamente per lo sviluppo turistico del territorio è assolutamente centrale quasi come il tunnel di base del Brennero quindi è fondamentale avere quel superamento del centro abitato Ministro Telegrafico mi ha stimolato una domanda parlando di modello federale lei ha da una parte un presidente alla sua sinistra che recentemente ha aperto alla macro regione del nord est alla sua destra ha un presidente che dice mai la macro regione del nord est lei da che parte sta? democristaneamente in mezzo o si esprime? Ah no io li lascio in ufficio litigare vado da mia figlia Pinzolo quindi non scherzi a parte quando ci sono territori omogenei che vogliono collaborare assolutamente è bello è bello che ci sia però diciamo che lo spirito di collaborazione che c'è è anche di competizione è anche ma di sana e onesta competizione fra Trento e Bolzano fra Trentino e Alto Adige mi auguro che vada avanti con questo spirito per i prossimi 50 anni perché porta solo risultati positivi sia i cittadini Trentini che i cittadini Alto Atesini poi su sulle macro strutture lascio lascio loro discettare sulle macro regioni io ho una mia idea però da vicepresidente del consiglio le mie idee me le tengo per me e lascio che siano i territori a decidere diciamo che se se tutti avessero la stessa comunanza di intenti la stessa rapidità di azioni e di esecuzione che ho toccato con mano questa mattina saremmo un paese un po' più moderno però mai dire mai io conto che a parte gli scherzi questo 2023 sarà un anno complicato perché la situazione economica è difficile il costo delle materie prime la situazione cinese la guerra in corso non sono situazioni facili però conto che che abbiamo le ricette gli uomini le donne la squadra giusta per affrontare i problemi quindi alla prossima conferenza stampa in questa sala sicuramente ci sarà qualche cantiere aperto in più di quelli di quelli di cui abbiamo parlato questa mattina grazie buon anno a tutti grazie signor Ministro allora ci ha promesso un secondo tempo come la partita che è in corso adesso quindi lo ringraziamo per la visita per le tante cose gli spunti che ci ha fornito dobbiamo chiudere arrivederci e buon lavoro sarà doppiato Tonali quindi se ci sono altre cinque domande rispondo volentieri le possiamo fare davanti alle telecamere intanto chiudiamo la diretta Facebook grazie e arrivederci